Giornata mondiale per la prevenzione dell'ictus. Oggi 29 ottobre abbiamo incontrato il nuovo primario dell'unità complessa di neurologia dell'ospedale di Cremona Bruno Censori che ci ha parlato della patologia che ogni anno colpisce 200.000 persone in Italia. L'ospedale maggiore di Cremona e il reparto di neurologia recentemente potenziato è uno dei presidi in grado di effettuare le terapie acute nei casi di ictus ma la cosa più importante rimane la prevenzione. Ma l'ictus è una patologia molto frequente ed è un disturbo circolatorio acuto cerebrale. Se si rompe un vaso c'è l'emorragia e se il vaso si chiude ma anche il sangue e il tessuto cerebrale c'è l'ischemia. Quindi si parla di ictus ischemico o ictus emorragico. Riconoscerlo è molto importante. L'ictus dà un gran numero di segni ma quelli principali e anche facilmente riconoscibili sono un disturbo della parola, una debolezza di un braccio o di una gamba o una deviazione ben evidente della bocca. Quando succede uno di questi segni la cosa giusta da fare oggi è chiamare immediatamente il 112 o 118. Gli operatori dal 118 portano i pazienti direttamente in quegli ospedali che in Italia possono fare le due terapie acute che servono a migliorare la prognosi e cioè la trombolisi oppure la trombectomia. Nell'ospedale di Cremona si possono fare sia la trombolisi che la trombectomia. Dopo la terapia della fase acuta è importante essere ricoverati in unità dedicata, subintensiva, monitorizzata che serve a prevenire le complicanze dell'ictus e serve iniziare precocemente la riabilitazione oltre che ovviamente identificare e iniziare la cura dei fattori di rischio e fare un programma poi di follow up ambulatoriale. Ma la cura, se vogliamo, di gran lunga più efficace rimane la prevenzione primaria, cioè adottare uno stile di vita che minimizza, diminuisce la probabilità che l'ictus si verifichi. Quindi attività fisica moderata, frutto e verdura in abbondanza, evitare sali, evitare grassi saturi e curare pressione, colesterolo e soprattutto non fumare. Grazie a tutti.